Ma che bella la maglietta che ho quest'oggi, guardate quanto è fantastica, ho anche il mio bel portabicchiere Pef, Pef, dimmi, cosa stai facendo? Perché hai tutte queste cose carinissime senza dirmi nulla? Pef, gli sviluppatori di Rodeo Stampede ci hanno mandato tutta a casa, guarda, aspetta E non mi dici niente, perché non mi hai fatto vedere le cose prima? Pef, c'è anche una maglietta per te Oh mio Dio, davvero? Sì Oh mio Dio, oh mio Dio, dammela, dammela Tieni, 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 è tutta per te Yeeeh Eh ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che stai già chiamando Rodeo Stampede Ebbene sì, siamo tornati qui su Rodeo con tantissime sorprese Esattamente, gli sviluppatori del gioco ci hanno contattato qualche settimana fa E ci hanno proposto di fare in anticipo la nuova versione del gioco Che bellissima Una sorpresona, non vi diciamo ancora che cos'è, fra poco o tanto la vedrette è davvero fantastica Ci ha fatto super piacere che ci hanno contattato e oltre a darci la possibilità appunto di registrare in anticipo il nuovo aggiornamento Ci hanno anche dato delle cose fantastiche Esatto Tra cui le nostre magliettine bellissime Mi alzo per farla vedere Vedere bene Dovrebbe vedere così, così è troppo carina In ogni caso su Instagram ci sono le foto fatte bene Quindi se siete curiosi di vederle come si deve, trovate le due foto su Instagram Volevo dire che oltre alle magliette abbiamo anche questa che è una shopping bag carinissima Vediamo se riusciamo a farla vedere Riusci a farla vedere Qua ci sono tutti i loro giochi Quella utilissima E qui dietro appunto la cosa della casa Sia per fare la spesa che per fare shopping per Ferrenichi Esatto Quella è davvero utilissima Infatti come l'avevi stato, mio Dio che bella Che bella E poi ci sono i portabicchiere che sono portabottiglia Forse in realtà ho portalattina Ancora abbiamo qualche dubbio Però sono molto carini Io li usati per la bottiglia dell'estate Che mi berrò durante il video In ogni caso È comodo per tenere le cose qua nella scrivania Ok Non ci perdiamo in chiacchiere Ed iniziamo subito Allora hanno aggiunto una nuova cosa Adesso io ancora non vi dico che cos'è Ci andiamo direttamente Così potrete urlare Anche se noi poi non vi sentiamo Urlate nei commenti Allora noi abbiamo già urlato Urlate anche voi Mi raccomando Nei commenti Perché altrimenti non vi sentiamo Esatto Fatevi sentire urlate Allora Qua potete vedere la base Che è nello spazio Però già ancora non vi dico niente Di che perché pensate Ah Gli animali di altri pianeti Non proprio Non proprio Siamo pronti? Prontissimi Vai Allora Guarda dove entriamo Quando andiamo Oh mio dio In un portale In un portale magico Sì Ebbene sì Hanno aggiunto i dinosauri Che bello Guarda non potevano fare Aggiornamento migliore Secondo me Sono d'accordo Io non me ne sarei mai aspettato I dinosauri in questo gioco Ma è la scelta più figa possibile Quando ci hanno contattato Ovviamente ci hanno iniziato a dire Su che cosa sarebbe stato Io mi aspettavo animali strani Ma non Una vera e propria zona Nuovissima Con tutti i dinosauri Quindi Iniziamo Bando alle ciance Catturiamo subito Tutto quello che vediamo Esattamente Allora abbiamo già catturato I primi due Quelli classici Che sono Veloci Raptor E l'altro Non mi ricordo Parasaur Parasaur Grazie mille E dobbiamo Andare a caccia Del ricerattopo Dopodiché Sì che l'abbiamo visto Che c'è Ovviamente Si va a caccia Di quelli un po' più rari Allora con permesso Scusate Allora Guardate che bellini Vorrei andare con calma Per godermi la zona Quindi andiamo in questi Che sono un po' più lenti Però quando si arrabbia Saltella Guarda come saltella Il disgraziato È abbastanza complicato Starci sopra Ho notato Ho notato Va bene Va bene Siamo vicini ai millimetri Quindi mi aspetto Dei triceratopi Sembra l'elefante Da dietro Invece il triceratopi Ok Infatti C'è un problema Ma perché ci cadono Gli asteroidi in testa Giusto Era un meteorite Sì sì Sono dei meteoriti Sono dei meteoriti Ma che bello Che sì Allora Sì dimmi Come sei vestito Ehm D'angio letto Ti sembra l'outfit Perfetto per andare a caccia Di dinosauri Sì farei Che cosa non ti piace Dei miei outfit Andiamo avanti Andiamo avanti È davvero avventuriero No Sicuramente Se tu dovessi andare In una terra selvaggia Dove ci sono i dinosauri Questo è l'outfit Giusto Ti vestiresti così E verresti mangiato Da un t-rex Come giusto che sia E invece Schivo Ci sarà il t-rex Uuu Ma te l'immagini Se c'è Secondo me c'è Però O è difficilissimo O magari lo catturi Con qualche missione boss Come Per le altre zone Potrebbe essere Però sarebbe bellissimo Allora Rifacciamo una foto Che nome li vogliamo dare Ferdinando Mi piace Mi piace Ora dobbiamo iniziare A cercare già i primi dinosauri Un po' più rari Più rari Sì Adesso si fa interessante Sono curioso di vederli Guarda come scalcia Stai ti dico che è abbastanza Tenibile Appena l'ho detto Mi sono schiantato Però Ci hanno dato anche Dei poteri nuovi Gli sviluppatori Che ci permettono Di stare un po' più tranquilli Sì ci hanno dato un sacco di cose Infatti possiamo risuscitare Una volta Ogni volta che moriamo Per fortuna Ma aiuto Ma siamo pazzi Da queste parti Sono gentilissimi Mentre ci arrivano Non così tanto gentili Dato che ci stanno facendo giocare Questa versione Che è folle Già è difficile schivare le cose Se per di più Ci sono i meteoriti Che ci colpiscono Però è bello C'è una figata Questa zona nuova È davvero bella Ah e guarda Abbiamo fatto anche 2000 metri nel giurassico In una sola corsa Ottimo Quindi ci siamo fatti Anche una bella missioncina Che credo Ci dia Hai visto che aveva Tipo un'iconcina Delle pozioni Sì ho notato Perché in questa In questo zoo Perché se è notato Si separa dal zoo classico C'è una cosa particolare Infatti Abbiamo un'energia Che credo Che ci permetta Di andare In quel In quel portale lì Ah ok Capito E infatti vedi Questi generatori giganti Che abbiamo Un'energia qui E io penso Che ogni volta Che facciamo una missione Forse riceviamo Quell'energia O qualcosa del genere Forse anche Aprendo comunque Lo zoo Ci becchiamo delle energie In base a quanti animali abbiamo Sì in effetti Non è solo Una nuova Qualche teoria del genere A livello di habitat Ma è proprio Uno zoo a sé Un nuovo zoo Che va costruito Beh vabbè dai Le zebbre con i dinosauri Non ci sarebbero state bene Hanno fatto benissimo A separare le due cose E però stavo apprezzando Perché è davvero fighissimo Più cento di energia Ogni volta che Ok 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 Quindi ci becchiamo Questi cento di energia Guarda come arrivano Che bello Fantastico Ci vorrei andare io In questo zoo Che bello Se invece clicchiamo nel più Come funziona Vediamo un pochettino Ah ok Possiamo comprare l'energia Con le monete Classiche del gioco Beh mi sembra Abbastanza giusto Completa le missioni Jurassico Per potenziare Cioè normalmente Tu usavi le monete Per potenziare i vari recinti Qua non puoi Qua devi completare le missioni Per poterlo fare Quindi Cambia proprio anche La modalità del gioco Sì Diciamo che diventa Proprio tutta una cosa nuova Da scoprire È molto bello Bello Questo aggiornamento Completa tre missioni Nei livelli spaziali E ottieni un potenziamento gratis Ok Ogni terzo aggiornamento Espande lo zoo spaziale Ok Quindi ogni tre volte Ok Ok Bravo Capito tutto Perfetto Sono tristissimo Perché il mio telefono Scatta Ormai è vecchio Eh Abbi pazienza Abbi pazienza Raccogli 14 uova Le uova che vediamo Le dobbiamo anche raccogliere A quanto pare Ci sono troppe cose qua Ci sono troppe cose Ma io sono entrato Pensando di sapere tutto del gioco E non so più nulla No invece questa versione Cambia tutto Allora dai proviamoci Ok Ci proviamo a farlo E vediamo che succede Avvisami appena vedi un uovo Ok Urla uovo Urla uova Sì mi piace Urla uovo Allora Io vado con quelli lenti Non lo vedrò mai Te lo dico In modo tale da poter essere Un po' più pronto Andiamo sul voce Ok quindi al posto delle casse Ci sono le uova Comunque siamo A più di 1600 metri Ogni volta che parlo Mi schianto È una cosa incredibile Devi stare zitto Devi andare avanti E poi nel caso Se andiamo avanti Facciamo vedere Ma devi stare zitto Ok allora Smetti di parlare Esatto smetti Zitto zitto E tu parli? No Siamo tutti zitti e concentrati E chi è che fa il video allora? Nessuno Sicura? Sì Va bene Bene guarda che bravo Sono quasi a 2000 Ti ho detto che dovevi stare zitto Grazie Fede È stato un ottimo consiglio Allora mi prendo un altro uovo Ok Fare però questa zona Mi fa un po' paura Prendilo Vieni qua bello Allora È il primo triceratopo strano Anzi dinosauro strano Che troviamo Dimmi che ce l'abbiamo fatta Dimmi che non siamo morti No vabbè È vestito da sbirro È vestito da poliziotto È vestito da poliziotto Ma cosa si inventa? No voglio un nome da maschio Perché Eh no ma Li mette per forza da femmina Trista mi piace Però non so perché Allora Voglio farti vedere Nella foto abbiamo un meteorite Che è perfettamente dietro di noi Esatto Dopodiché guardate appena riparto Guardate 3, 2, 1 Boom Con quanta fortuna Con quanta fortuna Incredibile Allora Allora abbiamo capito Che anche i dinosauri Ci sono tutti quelli strani Sì ma te l'avevo detto Ne ero davvero sicurissimo Di questa cosa Bellissimo Adesso sta tutto sul Cercarne altri Ma soprattutto Quanto è difficile Dopo che Si fanno i I 2000 metri Iniziano Non solo ad essere Più stretto l'ambiente Come era anche Nelle altre mappe Ma i meteoriti I meteoriti Come fai a schivarli? Cioè dopo i 2000 metri Ne cadono tantissimi È diventato davvero difficile È diventato davvero difficile Allora dai Con le missioni Siamo andati abbastanza avanti Perché ci mancano 7 rocce E 8 uova Quindi non siamo messi male Guarda ci ha dato già subito Quello nuovo Io starei su di lui Perché gira meglio A sinistra e destra Anche se va più veloce Che quello comunque È un difettino Per quanto mi riguarda Perché mi schianterò malamente Però quantomeno Riesco a prendere Penso qualche uovetto in più E dato che vogliamo fare Quella missione Non è male Ecco che ne ho perso due di fila Bravissimo Steph Quello era l'abbinamento Per fare i figlioletti Vabbè facciamo i figlioletti Di veloci raptor Che cosa bella Più avanti Più avanti Adesso pensiamo a fare Qualche missione Ok bravo Steph Ho fatto bei progressi Perché ho saltato Qualche roccia E ho tolto già Qualche uovo Che non è male Ok quello uovo lì Lo lasciamo perdere Vi prego meteoriti State calmi Che non voglio morire Andiamo su di lui Ci prendiamo questo uovo qua 10 di 14 Ne mancano solo 4 Dopodiché Solo le rocce Che secondo me Sono anche un po' più facili Perché basta fare così E le fai Mamma Mamma Ok Mamma Uova Perfetto Altra uova Ne mancano solo 2 Ok Continua Steph Altra uova Ne manca solo 1 1 1 Vai dritto Fatto 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 Adesso andiamo avanti Voglio un nuovo record Ci siamo quasi Ci siamo quasi Voglio un nuovo Dino Lo dici così Io ci provo Ok Posso resuscitare Mi ha preso in pieno Mi sta il meteorite Per fortuna che abbiamo 3000 metri La possibilità di resuscitare Esatto Altrimenti saremmo stati fregati Mamma mia Salta Ma come Indiana Jones Vabbè No vabbè Vabbè E poi quanto sono lenti Non fa saltare Eccoci qua Eccoci qua Allora Possiamo anche scegliere Corri per altri 2 secondi Prima che il triceratopo Si mizzarisca 3 volte di più Il raptor nella carica Oppure altri 2 secondi Prima che il Parasauroflofo Che avevi sbagliato No però vedi che Un parasaur Parasauro Olofo Lofo non ci doveva essere Proprio Ashtag Parasaurolofo Parasaurolofo Ashtag Parasaurolofo Parasaurolofo Ok Parasaurolofo 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Cosa potenziamo Il parasaurolofo Davvero Vabbè No dai Dai l'hai detto bene Quindi te lo potenzio Te lo sei meritata Guarda Opla Ok 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 Fere Dimmi Sto andando benissimo E ho anche finito Le nuove 3 missioni Quindi teoricamente Finendone altre 3 La prossima volta Dovrei Sbloccare Un nuovo animale Ops Fere sono caduto Aspetta un attimo Potenzia No di già Di già Ma è ottimo Bene Ma è ottimo Meno male che avevamo capito male Quindi lo possiamo già fare Una figata Esatto Esatto Che cos'è Non lo so Il T-rex No Esaggero Troppo presto E allora Qualcosa di abbastanza classico Volante No il primo volante No il primo volante Secondo me Tra i prossimi Il prontosauro Vabbè 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 Ragazzi Io non lo so Io non lo so Sarebbe bellissimo Non so come facciamo a dire le cose In telepatia totale L'unica cosa certa Fere È che È che tu ti schianti sugli alberi Sì Dai Forza Dopo i mille dovremmo iniziare a vedere Vabbè è resuscito È il T-rex Avevo ragione Fere È il T-rex No sì ma Fere Hai notato una cosa Che cosa È scomparso Com'è scomparso Va velocissimo Vedi Si sto papando tutti Mi vuole mangiare Sì ti vuole mangiare Scappa Scappa Ok Scappa E come funziona allora Quando lo Così Sì Sì Non cadere Non cadere Non ti schiantare Ti prego Fere Ti prego Fere Ti prego Te l'avevo detto Che era il T-rex Ho indovinato Ma fagli una bella foto Fagli una bella foto Così di profilo Guardalo che bello Voglio i cuccioli di T-rex Adesso Ma quanto sei meraviglioso Così col vulcano dietro Guarda è proprio una foto Da Instagram Questa è una foto da Instagram La mettiamo T-rex No il T-rex Si deve fare l'Instagram Agata Ti piace Agata Per un T-rex Si mi piace molto Si deve pubblicare la sua prima foto Che sarebbe questa Quando si arrabbia Ci butta giù O ci mangia No non voglio scoprirlo Almeno hai fatto in 40 metri Sono scappato Sono scappato direttamente Dai io comunque direi Che ci possiamo fermare così È davvero 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 Fantastico Il nuovo aggiornamento Questa zona È geniale È bellissima E soprattutto Permette di giocare Entrambe Diciamo Capito Le versioni del gioco In contemporanea Perché da una parte Devi pensare A fare le missioni A fare i soldi Eccetera eccetera Da questa parte Invece comunque Devi aspettare Aspettare di avere l'energia Perché a meno che Non vuoi usare i soldi Del giochino Devi comunque Aspettare l'energia E quindi diciamo Combini le due cose E continui Le progressioni In entrambe le cose Molto molto figo Molto bello anche Il sistema che hanno messo Di fare tot missioni Per sbloccare i nuovi dinosauri Mi è piaciuto davvero Un sacco È bellissimo Sarei curioso di continuare Quindi consolini Se vi piace molto Noi lo continuiamo A portare molto e volentieri Ovviamente ringraziamo Ancora gli sviluppatori Del gioco Per averci dato In accesso anticipato Questa versione del gioco Tutti i gadget Che ci hanno dato È stata davvero Una cosa carina Il fatto di fare Un gioco così A caso E vedere che gli sviluppatori Lo apprezzano L'editura ti contattano E ti offrono Delle cose Per fare un altro video È piacevole Ed è bello Sempre avere questo contatto diretto Con chi sviluppa dei giochi Così carini Comunque Ci fermiamo così Sandagino Commenti i likes E ci vediamo domani Ragazzi Scusi Ciao Scusi E se la prima volta Che vi vedete il nostro video Potete considerarmi Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao